Celebrazioni del ride Roma-Tokio 157 sergenti ricevono i gradi Anche l'aeronautica militare aderisce alle giornate fai d'autunno Bentornati con le notizie di Videonews Il 14 febbraio del 1920 i piloti italiani Arturo Ferrarin e Guido Masiero insieme ai motoristi Giro Cappannini e Roberto Maretto decollarono dall'aeroporto romano di Centocelle con due biplani Ansaldo Svanove per compiere quello che oggi è ricordato come il ride Roma-Tokio Prima di loro, dallo stesso aeroporto, altri valorosi uomini decollarono a bordo di quattro velivoli caproni e Sette Svanove per effettuare quell'impresa eccezionale Era l'8 gennaio 1920 I velivoli caproni e 5 dei Sette Sva però non arrivarono molto lontano Solo Arturo Ferrarin e Guido Masiero con i propri equipaggi riuscirono ad arrivare a Tokyo Anche se Masiero raggiunse la capitale giapponese dopo aver vissuto vicende avventurose e al contempo sfortunate a causa di incidenti che danneggiarono l'aereo con cui era partito Un evento epico, oltre tre mesi di viaggio, 31 tappe ed un percorso di oltre 18.000 km che vide come protagonisti i nostri aviatori italiani Proprio ottiene città natale di Ferrarin il prossimo weekend Per ricordare il centenario della storica impresa che nel 1920 conferì al giovane ufficiale una grande fama a livello mondiale sono state organizzate alcune celebrazioni nell'aeroporto a lui intitolato Dopo oltre un anno di iniziative ed eventi La città natale di Ferrarin è pronta a vivere i festeggiamenti conclusivi Molte le occasioni in programma L'inaugurazione del monumento dedicato al centenario del volo Roma-Tokio alla presenza del capo di stato maggiore dell'aeronautica generale di squadra aere Alberto Rosso Sorvoli e manifestazioni aeree con protagonisti alcuni dei velivoli dell'aeronautica militare Tra cui una formazione di SIAE 208 con una livrea che omaggia proprio Arturo Ferrarin E come gran finale l'esibizione delle frecce tricolori Altri obiettivi raggiunti da 157 militari Questa volta alla scuola specialisti dell'aeronautica militare Lunedì 11 ottobre i frequentatori del 23esimo corso TOR durante la cerimonia svolta alla presenza del comandante delle scuole dell'aeronautica militare Generale di squadra aerea Aurelio Colagrande e di autorità civili, militari e religiose locali Oltre ai gradi hanno ricevuto il gaiardetto del corso Benedetto dal cappellano militare della scuola Torna l'appuntamento con l'arte, la storia e la cultura Tra i tanti luoghi da visitare per le giornate FAI d'autunno Anche alcuni siti dell'aeronautica militare Sabato 16 e domenica 17 ottobre, previa prenotazione Apriranno l'Accademia Aeronautica e il Sacrario Militare dell'Aeronautica in Campania Il Centro Logistico di Supporto Areale Istituto Umberto Maddalena in Liguria L'Istituto di Scienze Militare a Firenze Villa Bonci all'interno del Centro Formazione Aviation English nelle Marche E in Lombardia l'Idroscalo di Desenzano del Garda Videonews termina qui Arrivederci alla prossima edizione Buon weekend! AIN AIN also AIN 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 Grazie a tutti